Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Oggi continuiamo, secondo il filo logico che era iniziato ieri, di fare accadere le cose, per anticipare un concetto che sarà più volte ribadito durante la seconda parte della giornata. La giornata di oggi è dedicata ai parchi, la sessione d'esordio di oggi è dedicata ai parchi, un confronto tra i parchi, non soltanto perché i parchi sono enti chiamati a gestire un territorio di elevato valore naturalistico e ambientale, ma anche perché molti dei SIC che compongono la rete Natura 2000 ricadono all'interno dei parchi o in zone limitrofe. Addirittura, come vedremo, alcune regioni, la Sicilia tra queste, hanno in gran parte demandato la gestione dei SIC limitrofi o periferici ai parchi non compresi nella perimetrazione originale dei parchi regionali, ai parchi medesimi, che quindi in questo modo si trovano a gestire e a custodire la naturalità di luoghi che originariamente non erano compresi nei parchi. In questo modo si costruisce una rete ecologica basata su una programmazione congiunta e integrata. Le istanze di tutela della natura dei parchi sono come quelle di Rete Natura 2000, non disgiunte dallo sviluppo socio-economico e culturale dei luoghi, non disgiunto dalla valorizzazione dei territori e quindi è una grande opportunità mutuare i modelli gestionali dei parchi e confrontare il know-how di diversi parchi per realizzare una gestione efficace di Rete Natura 2000.